Presidente, manca il sangue? La Fidas lancia un appello affinché i donatori vengano a versarlo? In Abruzzo, quindi già a giugno, i primi di giugno, si diceva guardate che il sangue mancherà. Sono stati bloccati molti interventi chirurgici. Abbiamo cercato di tamponare la situazione, però oggi si ripresenta drammatica con tutti i suoi numeri. Tenete presente che dal 2013, il mese di giugno, abbiamo fatto una piccola statistica, nel 2013 le donazioni nel mese di giugno sono state 576. Il 30 giugno di quest'anno, il mese di giugno, sono state 398. Diamo delle informazioni pratiche. Chi volesse venire? Dove deve recarsi? Quali sono le condizioni? A Teramo basta recarsi al centro trasfusionale dell'ospedale. Le condizioni fisiche sono che si deve pesare almeno 50 chili. Bisogna avere una pressione abbastanza, diciamo, normale. No, soprattutto normale. E valori di emoglobina al di sopra di 13-14 millilitri. E a questo punto avere 18 anni. Dopodiché ci sono i medici del centro trasfusionale che fanno un piccolo prelievo, verificano l'idoneità. Presidente, le lancia un ulteriore appello ai medici? Noi vorremmo sensibilizzare un pizzico in più i medici di base, i medici pediatrici, che potrebbero veramente svolgere un'azione di sensibilizzazione, tra l'altro più competente. Di provito, le attività della FIDAS sono tante sul territorio? Sì, sono tante le attività che facciamo, sia a livello legare l'attività della FIDAS allo sport, alla cultura, al teatro. Facciamo tantissime iniziative, coinvolgendo sia i bambini e quindi le famiglie, con il teatro dialettale che facciamo in questa splendida piazzetta che abbiamo in questa sede, e sia a livello sportivo, portando le società sportive con i loro atleti a donare il sangue e quindi fidelizzare anche queste società all'attività di donatore di sangue, di donazione di sangue.